Afranco, pazzo scatenato, me l'hanno detto adesso! Io la vita che te lo dico, mamma mia come stai stamattina! Ma come stai? Rallenta che le pasticche ti fanno male! Ancora con le pasticche? Ah no! Afran, pazzo scatenato, è un cavallo sicuro, te lo giuro su mamma! Ma che hai saputo chi è? Ma chi? Mamma! Ma ancora con mi madre, non ti amo! Mi hanno dato un bombardone che quando parte, quando parte non lo fermano manco col paracadute! Ma che hanno fatto il movimento hanno fatto? Preciso, l'hai detto, ma ha detto proprio lui! Lui chi è, il cavallo? Ancora, i cavalli parlano! E chi? Arfio, no, Arfio, il Fantino! Quello che ci ha fatto Piavatrice l'altra volta 5 milioni, sto te zitto, non ti fa sentire! Ma da chi te c'è nessuno? A te, da gente, tutti a guardare, che c'hai da guardare? Ma, per qua! Ma tu vai, che quello è cieco! Te che, allora dà la cia! Ma come dà la cia, ti dico, è cieco! Sono cieco, ma mica muto, andatevene a affanculo tutti e due! Ecco, ma ce l'ha detto! Alberto! Andiamo!